Secondo video dedicato all'ellisse. Parliamo di simmetrie nell'ellisse e diciamo che se un punto P di coordinate x e y appartiene all'ellisse di equazione x alla seconda su a alla seconda più y alla seconda su b alla seconda uguale a 1, equazione canonica dell'ellisse, anche i punti P1 che ha queste coordinate, P2 che ha queste coordinate e P3 che ha queste coordinate appartengono all'ellisse. Notiamo che P1 è il simmetrico di P rispetto all'asse y, che P2 è il simmetrico di P rispetto all'origine e che P3 è simmetrico di P rispetto all'asse x. Questo significa che la curva è simmetrica rispetto all'asse y, all'asse x e all'origine. Gli assi x e y sono assi di simmetria come indicato nel disegno e l'origine è il centro di simmetria dell'ellisse. L'equazione dell'ellisse pertanto rappresenta un'ellisse riferita al centro e agli assi. Si dice anche ellisse riferita al proprio centro e ai propri assi di simmetria. Ora cerchiamo i punti di intersezione dell'ellisse con l'asse x e poi con l'asse y. Per farlo dobbiamo risolvere un sistema tra l'equazione dell'ellisse e l'equazione di un'asse. Se mettiamo y uguale a 0 questa è l'equazione dell'asse x e stiamo cercando l'intersezione con l'asse x. Analogamente per trovare l'intersezione con l'asse y faremo questo sistema. Dal primo sistema troviamo i punti a1 e a2 che hanno coordinate rispettivamente meno a0 e a0 e dal secondo sistema troviamo i punti b1 e b2 che hanno queste coordinate 0 meno b 0 b. Ecco qui la rappresentazione dei punti a1 a2 b1 e b2. Questi quattro punti sono detti vertici dell'ellisse. I segmenti a1 a2 che ho rappresentato qui in rosso e b1 b2 qui rappresentato in viola sono gli assi dell'ellisse. La distanza a1 a2 ovvero la lunghezza del segmento a1 a2 questo rappresentato in rosso è uguale a2a. Mentre la lunghezza del segmento viola b1 b2 è uguale a 2b. a e b rappresentano quindi le misure dei semiassi. Qui è indicato il semiasse maggiore qui è indicato il semiasse minore rispettivamente a e b. Naturalmente semiasse maggiore semiasse minore in questo caso sono rispettivamente a e b perché abbiamo l'ellisse con i fuochi sull'asse x e sappiamo che in queste condizioni a è maggiore di b e allora è evidente che la lunghezza a1 a2 è maggiore della lunghezza b1 b2. Per questo il segmento a1 a2 è l'asse maggiore. Se i fuochi fossero sull'asse y allora la situazione si capovolge e questa volta b è maggiore di a e allora la lunghezza b1 b2 è maggiore della lunghezza a1 a2 e abbiamo che b1 b2 è l'asse maggiore a1 a2 è l'asse minore e quindi a è il semiasse minore e b è il semiasse maggiore. Nel video precedente ho fatto vedere le coordinate dei fuochi nel caso di un'ellisse con fuochi sull'asse x e nel caso di un'ellisse con fuochi sull'asse y. Rivediamo questo concetto rapidamente e consideriamo prima un'ellisse con i fuochi sull'asse x. Per trovare le coordinate dei fuochi partiamo dalla relazione che conosciamo c al quadrato uguale a al quadrato meno b al quadrato. Possiamo fare la radice quadrata di entrambi i membri e ottenere c uguale la radice quadrata di a al quadrato meno b al quadrato perciò le coordinate dei fuochi sono meno c zero per f2 il simmetrico. In precedenza ho detto che a è maggiore di b l'abbiamo visto nel disegno ma qui lo si può comprendere scrivendo la condizione di esistenza del radicale. se l'ellisse ha i fuochi sull'asse y abbiamo che c al quadrato e b al quadrato meno a al quadrato da cui c è uguale a questa radice quadrata e con le stesse considerazioni fatte in precedenza otteniamo che b è maggiore di a e quindi le coordinate dei fuochi risultano queste nel caso in cui si tratti di un'ellisse con i fuochi sull'asse delle y. La relazione tra a b e c può essere ricavata considerando questo triangolo rettangolo che otteniamo unendo un fuoco con un vertice con l'origine e abbiamo questo triangolo rettangolo di lati a b e c è evidente dal teorema di pitagora che a al quadrato è uguale a b al quadrato più c al quadrato ovvero c al quadrato uguale a al quadrato meno b al quadrato che è quanto abbiamo visto in precedenza da cui si ottiene che c è la radice quadrata di a al quadrato meno b al quadrato. Nuovamente imponendo la condizione di esistenza del radicando otteniamo a maggiore di b. Vediamo come rappresentare un'ellisse. Indichiamo i vertici dell'ellisse e disegniamo un rettangolo che abbia i lati paralleli agli assi passante per i punti a1 a2 b1 b2. Tutti i punti dell'ellisse si trovano all'interno di questo rettangolo. Infatti se partiamo dall'equazione canonica e isoliamo y quadro si ottiene con alcuni semplici passaggi b al quadrato su a al quadrato che moltiplica a al quadrato meno x al quadrato. Qui abbiamo tutti i termini elevati al quadrato. Tutti i termini devono essere positivi o nulli. In particolare questo deve essere maggiore o uguale a zero perché naturalmente y al quadrato lo è. b al quadrato lo è. a al quadrato lo è. Sono dei semplici numeri elevati al quadrato. Questa differenza deve essere maggiore o uguale a zero. cioè a al quadrato deve essere maggiore o uguale di x al quadrato. Risolvendola ci dà che x deve essere compreso tra meno a e a dove ricordo a è questa lunghezza che va da o ad a2 ed è anche la lunghezza del segmento o a1 quindi è il semiasse maggiore. Quindi x deve essere compresa in questo intervallo. Analogamente se isoliamo x quadro dall'equazione canonica si otterrà che y deve essere compresa tra meno b e b dove ricordo questa è la lunghezza b è il semiasse minore. L'ellisse risulta quindi inscritta nel rettangolo che ha i lati di equazioni x uguale a più o meno a e questo lo otteniamo risolvendo l'equazione a al quadrato uguale a x al quadrato e analogamente y uguale a più o meno b se risolviamo l'equazione y al quadrato meno b al quadrato uguale a zero. Parliamo ancora di eccentricità. L'eccentricità indicata con la lettera e è il rapporto tra la distanza focale e la lunghezza dell'asse maggiore di un'ellisse. Quindi in generale vale questo. Poi se l'ellisse ha i fuochi sull'asse x la lunghezza dell'asse maggiore sarà 2a. Se invece l'ellisse ha i fuochi sull'asse y è chiaro che la lunghezza dell'asse maggiore sarà 2b. Questo è il caso di ellisse con i fuochi sull'asse delle x e questa è l'eccentricità nel caso di un'ellisse con i fuochi sull'asse delle y. L'eccentricità è sempre un numero compreso tra 0 e 1. 0 e 1 sono dei casi limite. Da un punto di vista concettuale che cos'è l'eccentricità indica in pratica lo schiacciamento dell'ellisse. Se fosse uguale a 0 affinché qui si ottenga 0 la distanza focale deve essere nulla. E quando è che la distanza focale è nulla? Nel caso in cui si abbia un punto. Cioè f1 ed f2 coincidono. I fuochi coincidono con il centro e questo è il caso di una circonferenza. Una circonferenza con il centro nell'origine è raggio pari ad a ma in quel caso a è uguale a b quindi il raggio è pari ad a oppure a b. Nel caso il limite in cui l'eccentricità sia 1 allora la distanza focale è uguale all'asse maggiore. In questo caso i fuochi coincidono con i due vertici e l'ellisse degenera nell'asse maggiore. Si parla proprio di ellisse degenere. Diciamo che il valore 1 viene escluso perché in quel caso non parliamo di una vera ellisse. Nel caso che e sia uguale a 0 in quel caso abbiamo una situazione particolare, un caso particolare dell'ellisse che è proprio la circonferenza. Qui ho riportato alcuni casi, alcuni valori di e. Nel caso che e sia uguale a 0 abbiamo proprio qui una circonferenza. Qui abbiamo e uguale a 0,8 quindi un'ellisse diciamo tradizionale e qui ci stiamo avvicinando a 1 e quindi l'ellisse molto schiacciata al limite appunto diventa la lunghezza a 1 a 2. Questo si ha nel caso in cui e sia uguale a 1. Ripeto è un'ellisse degenere, non è neanche un'ellisse. Questo è uno schema che si trova in tutti i testi, è un riepilogo di quanto visto per quanto riguarda l'ellisse con i fuochi sull'asse x e ellisse con i fuochi sull'asse y. È un riepilogo di quanto abbiamo già detto. Vi faccio notare una cosa. L'ellisse è una conica come la circonferenza. D'altra parte abbiamo visto che la circonferenza è un caso particolare di ellisse. In più l'equazione dell'ellisse non rappresenta una funzione come neanche l'equazione della circonferenza. Infatti a ogni valore di x, prendiamo qui questo esempio, corrispondono due valori di y che sono questo, chiamiamolo y2, e questo che chiamiamo y1. Quindi affinché sia una funzione ad ogni x deve corrispondere una e una sola y. Questa regola non è rispettata. L'equazione dell'ellisse, ripeto come l'equazione della circonferenza, non rappresentano una funzione. Nel prossimo video ci occuperemo di problemi sull'ellisse, pertanto io spero che il video vi sia stato utile. Lasciate un like, vi saluto, vi ringrazio e alla prossima. Ciao!